La polizia federale statunitense ha circondato la casa del principale sospettato della strage nel Maine, Robert Card, 40 anni, di Bowdoin. Gli agenti hanno dichiarato Robert in arresto, comunicandolo col megafono, ma non confermano che Card si sia realmente arreso. In realtà Card non si trovava al suo domicilio. In precedenza, gli agenti dell'FBI avevano condotto analoghe perquisizioni ad indirizzi associati in qualche modo a Card. Sono intanto trascorse molte ore dalla sparatoria di massa avvenuta in un bowling del Maine.